Cala il numero degli incidenti stradali nella nostra regione. Secondo gli ultimi dati disponibili sono 14.600 l'anno, con quasi 400 morti. Cifre tratte dall'ultimo rapporto statistico dell'IRSE presentato questa mattina. 400 persone perdono la vita in un anno sulle strade del Piemonte. I dati ufficiali nel 2007 hanno registrato più di 14.000 incidenti, con oltre 21.000 feriti e 392 morti. La sicurezza sta facendo progressi anche sulle strade. Non siamo lontani dall'obiettivo fissato dall'Unione Europea nel 2001, dimezzare nel 2010 i morti per incidente stradale. La regione Piemonte oggi si attesta su una percentuale del 30% e la proiezione ci dice che dovremmo farcela arrivare a un 50,5% che sarebbe conforme agli obiettivi dell'Unione Europea. La situazione piemontese continua a migliorare, però migliora in modo un pochino più lento di quello che era stato rilevato nel rapporto dell'anno scorso. La mortalità diminuisce e forse l'aspetto più positivo dal nostro punto di vista di analisti è il fatto che per la prima volta calano i numeri di feriti che invece erano in aumento ancora fino al 2004. E quindi questo è un dato estremamente positivo. Secondo il rapporto dell'IRES il costo sociale degli incidenti stradali è di oltre un miliardo di euro, l'1% del PIR regionale. Il tasso di mortalità piemontesi è di 9 morti ogni 100.000 abitanti, tasso che sale oltre 14 in provincia di Cuneo che continua ad avere le strade più pericolose.